Ciao a tutti, sono Marco, ho 23 anni, abito in provincia di Mantua e dopo due anni passati a lavorare come modellista di calzature, ora studio a Bologna a design del prodotto. Per la mia icon ho preso sicuramente ispirazione dai canali social della Juve e in particolare dai video che realizzano, che trasmettono una certa dinamicità e una frenesia che appunto mi hanno ispirato per il risultato finale della mia icon. Per realizzare la mia icon ho utilizzato Photoshop supportato dall'utilizzo della mia tavoletta grafica e all'incirca per finire tutto, partendo dalle bozzette fino all'opera definitiva, ci mi hanno spiegato all'incirca una giornata intera. Più che un messaggio il mio intento è quello di rimandare i concetti che ho citato poco fa, ovvero una dinamicità e una frenesia che portino un'attrazione immediata nei confronti della mia anima. Se dovessi vincere reagirei sicuramente con moltissima felicità e orgoglio perché comunque avere un qualcosa realizzato da me e commercializzato in tutto il mondo dalla propria squadra del cuore è sicuramente il massimo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!